Buongiorno a tutti questo nuovo video fa il caso di tutti coloro che hanno una cagna che va in calore e crea scompiglio tra i maschi ci sono dei maschi che quando avvertono una femmina che è in estro smettono di mangiare ululano guaiscono sono agitati diventano più aggressivi nei confronti dei cani dello stesso sesso quindi molti mi chiedono aiuto per cercare di trovare una soluzione io in molti casi riesco a dare un suggerimento valido nel senso che con l'esperienza accumulata negli anni ho utilizzato una sostanza che viene venduta sotto forma di pastiglie di derivazione naturale che è un pigmento la clorofilla che praticamente ha il potere di coprire diciamo la frazione ferormonale che è contenuta nella nell'urina della femmina che è imputata appunto a segnalare la presenza di una cagna che è fertile nei paraggi di modo che i maschi l'avvertano e si accoppino quindi questa sostanza copre questo tipo di odori facendo sì che la situazione sia più vivibile e scongiurando delle situazioni veramente spiacevoli perché si possono evitare diciamo mille problemi nella fattispecie io uso queste pastiglie della trixie diciamo che si trovano online sono a catalogo nei negozi o non le vedo però può essere che magari qualche negozio ben fornito ce l'abbia comunque online ci sono diciamo che sulla confezione c'è scritto di usarne dalle quattro alle otto pastiglie io mi sono spinto usarne fino a dieci proprio per massificarne un po l'effetto e diciamo che in molti casi sono riuscito a risolvere il problema per quanto riguarda me la mia professione mi è capitato in allevamento di avere questo problema con maschi particolarmente sensibili e sul campo di addestramento con dei clienti che la cui cagna magari si protraeva il fatto che anche dopo i canonici 12 15 giorni si sentisse proprio ancora diciamo l'effluvio della cagna e i maschi non fossero troppo irrequieti quindi per evitare fermi troppo lunghi che sono impensabili perché non è un reato essere in calore da parte della cagna abbiamo adottato questo sistema potendo veramente dire che ci sono degli ottimi risultati spero di essere stato utile a molte persone dando questo suggerimento qualora fosse stato così vi chiedo di mettere un like su questo video di iscrivervi al mio canale e di condividere i miei video grazie per l'ascolto a presto con i prossimi contenuti e con i prossimi video vi auguro buona giornata a tutti grazie